L'essere umano ha bisogno di dormire almeno otto ore per notte. Sapete che cosa succede se non si dorme abbastanza? Non dormire abbastanza ha delle conseguenze negative sulla salute. Ecco le più comuni conseguenze del dormire poco. 1. Accelerazione dell'invecchiamento. La vista peggiora. Si va da una diminuzione della vista periferica ad allucinazioni. Il sistema immunitario si indebolisce. Aumentano gli sbalzi di umore. Si riducono le capacità cognitive e si dimenticano le cose. Ci si ingrassa di più in quanto aumenta la produzione dell'ormone della fame e diminuisce quello della sazietà. 21 ore senza dormire equivalgono a un contenuto di alcol nel sangue pari allo 0,8%. Aumentano gli sbalzi di umano. Aumentano gli sbalzi di umano. Aumentano gli sbalzi di umano. Aumentano gli sbalzi di umano.